Luccarelli, allora come sta vivendo queste prime ore post annuncio? Sicuramente è un momento difficile per me, ma molto bello perché ovviamente ci sono state delle scelte in questi ultimi mesi, delle scelte importanti che hanno anche un po' travolto oltre me, anche la mia famiglia e le persone che mi sono vicine ed è per questo che ho voluto fare una scelta molto ponderata, quindi pensare bene alle azioni e sono arrivato al fatto che la città ha necessità di persone che si mettono in gioco, che ci mettono la faccia, che mettono le proprie esperienze, le proprie competenze, che maturano sul campo e io mi sono sentito nel dovere adesso di farlo dopo aver fatto anni in un'associazione stupenda che rimane nel mio cuore, nel quale rimarrò attivo, che ha fatto tante cose per la città. Lì abbiamo acquisito una maturazione e questa maturazione mi sento di doverla portare in un ambiente politico, amministrativo, per dare una mano alle persone che in questo momento stanno ragionando dei miglioramenti della nostra città, per dargli manforte. Quindi non è una scelta opportunistica, è una scelta di campo, di cuore, per il bene della città. Ma assolutamente sì, mi viene in mente il momento clou della stagione quando come Proloco stavamo lavorando a tutte le varie attività e in quei momenti si pensa soltanto a far bene con le persone che hai vicino, ai rapporti umani che hai, al grande mondo del volontariato che secondo me si è espresso in modo fantastico, quindi non si pensava proprio a dover fare una scelta di questo tipo. Come vivrà la campagna elettorale? Come la farà? Come la sta pensando? Tra la gente? Con qualche contatto? Ma sì, non può essere altrimenti. Una persona che ha vissuto sempre tra le persone, nei quartieri, non può altro che fare la campagna elettorale e continuare a lavorare insieme alla persone e insieme alla città. La vivo sperando che ci siano dei contenuti da affrontare, facendo gli auguri a tutti coloro che oggi sono candidati, sia nel centro-sinistra, sia nel centro-destra, sia nel Movimento 5 Stelle, sia al candidato sindaco Auspici che insomma si è messo in campo, quindi facendo gli auguri a tutti perché c'è bisogno che tutti lavoriamo nella stessa direzione. Poi vediamo, e sarà la gente, saranno i cittadini, guardando le nostre competenze a decidere chi effettivamente meriterà di guidare per 5 anni la nostra città.